in questo settore. Ringrazio le Gamberi per aver promosso questo tipo di iniziativa ed invito la professoressa Monica Guglielmetti a salire sul palco e ci parlerà del ruolo della dietista nella gestione della dieta chitogenica, direi il ruolo centrale della dietista. Buongiorno, grazie a tutti, grazie per avermi invitato qui a parlare diciamo di questo argomento molto molto importante. Prima di tutto, scusate, ok, vediamo se, vabbè, il conflitto di interessi. Io per questa presentazione ho pensato diciamo di partire da l'utilizzo e la diffusione della dieta chitogenica, della terapia dietetica chitogenica nel mondo e di com'è cambiata negli ultimi tempi, partendo appunto da una pubblicazione del 2005 di Kosovo in cui faceva vedere quali erano i paesi in cui era utilizzata la terapia dietetica chitogenica in quel momento. Ho cercato, non so se con molto successo o meno, non so se non va avanti, eh non lo so, ok. Ho cercato con successo, l'ho fatta io, quindi se ho dimenticato qualche piccolo paese chiedo perdono, di riprodurre quello che è la situazione attuale. Vedete che in realtà è cambiata, è cambiata soprattutto non tanto nei paesi come gli States, piuttosto che appunto l'Europa dove era già abbastanza diffusa, ma è cambiata soprattutto nei paesi asiatici e in Africa. Il, a questo diciamo, a ulteriore dimostrazione di come la terapia dietetica sia considerata, soprattutto nelle patologie neurologiche, un fattore molto importante, tanto che spesso viene considerata quasi al pari della, quasi o addirittura al pari della terapia farmacologica. Questa, quest'oggi ci concentriamo sulle terapie dietetiche chitogeniche che appunto dovrebbero essere chiamate terapie dietetiche, non dieta chitogenica, proprio perché hanno un, sono dei regimi terapeutici che inducono e mantengono lo stato di chitosi e si possono, diciamo, ottenere attraverso diversi protocolli che a breve vedremo, che di solito vengono scelti in funzione di diversi parametri, tra cui l'obiettivo terapeutico, è stato discusso ampiamente anche stamattina il ruolo del livello di chitosi, piuttosto che appunto un miglior rapporto rischio-beneficio. Come diceva anche la professoressa Tagliabue prima, ma si cerca sempre di raggiungere quell'equilibrio tra beneficio clinico e rischio nutrizionale, ovviamente maggiore è il rapporto chitogenico, maggiori sono le carenze nutrizionali, quindi di questo ne dobbiamo tenere conto, e poi anche le risorse disponibili, non soltanto quelle dal punto di vista economico, ma anche della struttura, la formazione che la struttura ha avuto e le risorse anche della famiglia. I quattro tipi di terapie dietetiche chitogeniche più diffuse sono quella classica, la Modified Atkins Diet, MCT e la Modified Chitogenic Diet, che è utilizzata prevalentemente negli Stati, nel Regno Unito. In Italia, in ordine diciamo tra virgolette di diffusione, ci sono la terapia dietetica chitogenica classica, la Modified Atkins Diet e l'MCT. Ho messo un asterisco sull'MCT perché in realtà l'utilizzo che ne viene fatto in Italia è tendenzialmente come supporto alle altre terapie chitogeniche, cioè io utilizzo una classica, una Modified supplementata con MCT, non il protocollo diciamo classico. E poi appunto di nuovo una breve introduzione anche su quelle che sono le vie di somministrazione della terapia dietetica che ci possono condizionare anche la scelta. In Italia, ma anche in generale a livello internazionale, la più diffusa è quella per os, quindi sia con alimenti che eventualmente con l'aggiunta di prodotti formulati. Quando si parla del ruolo della dietista nelle terapie dietetiche chitogeniche, bisogna per forza parlare di quelli che sono i pilastri della terapia dietetica che vedete scritti. Io mi vorrei focalizzare appunto sul chetoteam che è imprescindibile sia formato da un medico specialista in neuropsichiatria infantile, un dietologo e un dietista. Poi nella versione ottimale dovremmo anche avere tutte queste figure, quindi il pediatra, il chirurgo specialista, lo psicologo, l'infermiere. Bisogna collaborare anche con scuola, lavoro, le aziende per i medical foods, con le istituzioni e anche con le associazioni pazienti, soprattutto nel caso in cui la terapia dietetica debba essere mantenuta a vita, per esempio appunto nel glutuno. Ma al centro ci deve essere sempre il paziente e la famiglia. Veniamo quindi a quello che è appunto il focus di questa relazione, quindi il ruolo del dietista. Io ho cercato di riassumerlo con questo grafico nella quale ho presento appunto quelle che sono tutti i vari step che noi solitamente effettuiamo nel momento in cui abbiamo un candidato per una terapia dietetica chetogenica. Ci tengo a precisare che lo primo step è più generico, del secondo step io mi sono concentrata solo sull'aspetto ovviamente dietetico, però in realtà ci sono ovviamente anche altre valutazioni da fare. Partendo quindi dal primo step, che è appunto una valutazione predieta, è multidisciplinare, quindi neurologica, dietistica, eventualmente specialistica e ci si concentra su quello che è la spiegazione introduttiva della terapia dietetica, quindi il primo incontro introduttivo sui diversi tipologie di diete, quali sono le differenze tra l'alimentazione abituale, quindi tendenzialmente un'alimentazione mediterranea che viene raccomandata e invece la terapia dietetica verso cui ci si approccia, quali cambiamenti saranno richiesti, per esempio pesare al grammo nel caso di una terapia classica, il monitoraggio della chetosi, si valuta poi appunto anche la disponibilità della famiglia nei confronti di un approccio o dell'altro, si risponde ovviamente a eventuali domande e si prende una decisione d'equip sulla fattibilità coinvolgendo ovviamente anche il paziente o la famiglia. Passando appunto al secondo step si ha una valuta, quindi una volta che si è deciso che il paziente è candidato e inizierà questo percorso di terapia chetogenica, si fa una valutazione nutrizionale basale, come vedete con antropometria, peso altezzo, BMI rapportata ai percentili, valutazione della composizione corporea, complicometria, bioimpedenzometria, ovviamente anche le circonferenze nell'antropometria, la valutazione del metabolismo basale noi la facciamo con calorimetria indiretta però diciamo anche attraverso le formule estima, attraverso le formule predittive, il dietologo valuta poi i parametri ematochimici e poi facciamo appunto una valutazione delle abitudini alimentari con un diario di sette giorni e le preferenze di consumo. Sulla base di questi dati decidiamo poi prima di tutto che tipo di terapia chetogenica introdurre di solito appunto con questo albero decisionale. Vedete che nella nostra esperienza si tende principalmente noi tendiamo appunto a preferire come primo approccio la terapia dietetica classica ma ovviamente c'è anche la possibilità di introdurre, di valutare appunto anche la MAD di solito negli adulti, negli adolescenti o negli adulti. Dopodiché appunto si fa quello che viene considerato il lavoro classico della dietista, calcolo i fabbisogni, elaboro i menu, faccio lo schema settimanale che può essere eucalorico o ipocalorico, calcolo le integrazioni sulla base dei LARN del contenuto di micronutrienti della dieta e appunto eventuali carenze manifeste e lo consegno al paziente. In che modo? Online o in presenza spiegando appunto quali sono le caratteristiche del ricordando le caratteristiche in generale della dieta che abbiamo anticipato e poi facendo diciamo un focus più specifico su quelle che sono le caratteristiche impostate, pensate appunto per il singolo paziente. Quindi si cerca di tradurre quella che è la prescrizione alla pratica utilizzando appunto anche queste piramidi alimentari che abbiamo creato insieme al gruppo di Milano e poi anche la nostra che ha fatto vedere la professoressa Tagliabue e poi si fa, si valuta anche appunto, si fa anche una spiegazione su cos'è il rapporto chetogenico, quanto è importante rispettarlo, come si comincia, quali accorgimenti tenere nella pratica, quindi per esempio cercare di utilizzare una bilancia che pesa il grammo, preparare tutti gli alimenti, ci sono dei pazienti qua che si ricorderanno abbastanza bene tutte queste indicazioni, cercare di pesare il grammo, preparare tutto nello stesso contenitore dove è possibile, quando e come misurare i chetoni eccetera. E dopodiché facciamo appunto il periodo di follow up che avviene in tempistiche diverse, è più frequente sicuramente durante il primo mese che è nella fase di induzione, quindi dove si cambiano i diversi rapporti chetogenici e comunque nei primi tre mesi di terapia, ma è mantenuto anche nel lungo periodo e quello che di solito facciamo, oltre alla valutazione nutrizionale, ripetere la valutazione nutrizionale che abbiamo fatto all'inizio, ad eccezione della calorimetria che viene fatta con frequenze diverse a seconda del tipo di paziente che abbiamo di fronte, si rifà ovviamente una rivalutazione del fabbisogni, si cerca di capire se ci sono necessità di modifica, nel senso modifica, semplice modifica dei menu oppure modifica proprio della terapia, della tipologia di terapia dietetica, si valutano, ovviamente si tiene conto anche se è una valutazione medica delle comorbidità e si cerca di capire come gestirle dal punto di vista dietetico, si valuta il mantenimento e l'introduzione di eventuali alimenti finimedici a speciali e più in generale si valuta quella che viene definita l'aderenza al trattamento che aveva citato anche la professoressa Tagliabue. Queste sono, diciamo, delle slide molto riassuntive su come gestire dal punto di vista dietetico l'effetto con i diversi effetti collaterali che si possono presentare nei vari periodi, quindi nel breve e nel lungo termine, la costipazione, la dislipidemia, eventuali calcoli renali oppure anche alterazioni del metabolismo osseo. Quindi se noi ci fermassimo a questa parte della presentazione, diremmo che il ruolo del dietista è il classico ruolo prescrittivo. Valuto lo stato di nutrizione, lavoro menù, integrazioni, modifiche, eccetera. Ma il ruolo del dietista è veramente solo questo? No. Deve essere anche, il dietista deve essere un supporto e deve educare il paziente. Ci sono diversi studi di letteratura, io qua ne ho riportati solo due, ma ce ne sono veramente diversi, che dimostrano come il supporto costante, che vuol dire anche solo rispondere a una telefonata o a una mail, è di fondamentale importanza per mantenere l'aderenza allo schema dietetico. Qui noi avevamo valutato appunto un follow up di 12 mesi su tutti i pazienti che abbiamo visto e, a parte concludere che ovviamente il fatto di mantenere un contatto costante con i pazienti, anche solo tramite mail, era sicuramente un modo efficace per una miglior gestione della dieta chetogenica, abbiamo visto appunto che questo è particolarmente valido per i pazienti che la devono tenere per lungo tempo. Il numero di mail che era stato mandato era superiore nei pazienti con GLUT1 rispetto ai pazienti con epilessia farmacoresistente. E poi, tendenzialmente, chi aveva mandato un maggior numero di mail aveva avuto anche un maggior beneficio, in questo caso, sul mantenimento della crescita. Quindi c'è anche un effetto proprio evidente. Lo stesso è stato, diciamo, evidenziato da Sarlo e Olton in una short communication in cui c'è proprio un pezzo della discussione dedicato al ruolo del dietista. Cioè, loro dicono, dopo tutto, diciamo, il fatto che ci sia stata un'educazione e un training della famiglia e, in generale, l'assistenza del dietista lungo tutto il percorso della terapia dietetica è critica nel senso di fondamentale per assicurare la compliance dietetica. In più, avere a disposizione delle dietiste adeguatamente formate può inoltre prevenire il fatto che le famiglie vadano a cercare delle informazioni sulla terapia che spesso sono inaccurate su internet. Quindi, tra il ruolo del dietista c'è sicuramente quello della... un ulteriore ruolo è quello della collaborazione all'interno del team multidisciplinare. Un esempio, appunto, è la psicoeducazione. Non ci dobbiamo solo limitare a educare, quindi a fornire informazione ai pazienti, ma possiamo abbinare il nostro lavoro insieme, per esempio, a dei professionisti come la neuropsicologa, questo è un case report che abbiamo pubblicato in cui abbiamo utilizzato appunto la psicoeducazione su una paziente adolescente che aveva difficoltà a seguire lo schema dietetico-chetogenico e in cui avevamo provato, diciamo, diversi approcci terapeutici prima di arrivare a questo tipo di trattamento che sicuramente si è dimostrato efficace. E poi il ruolo della dietista è anche nella ricerca. Cioè, la ricerca, lo sappiamo benissimo, è estremamente importante. Non ci si deve dimenticare di noi in questo senso, ma non ce ne si dimentica, perché io ho preso degli esempi di articoli pubblicati appunto su diversi giornali in cui non solo erano coinvolte delle dietiste, ma questi sono tutti articoli in cui la dietista è primo nome. Quindi abbiamo un ruolo importante anche in questo senso. Giusto per concludere, come facciamo a fare... cioè, quali strumenti abbiamo a disposizione per poter fare tutto ciò? Sicuramente le linee guida internazionali, a livello italiano è stato pubblicato poi anche un ulteriore documento, ma manca ancora qualcosa di più specifico proprio sulla gestione dietetica. Ma ci stiamo lavorando a livello internazionale, quindi piccolo spoiler, presto arriveranno appunto anche delle best practice recommendation per le dietiste e poi non potremmo farlo senza il confronto e la collaborazione con altre dietiste esperte in questo tipo di terapia dietetica. A livello internazionale, per esempio, il Chetogenic Dietitian Research Network e poi a livello nazionale è stato recentemente introdotto anche un gruppo di lavoro proprio sulla terapia dietetica chetogenica grazie appunto ad Asand. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio tutto il team e anche le mie colleghe del gruppo Valenza Strategica. Grazie mille per questa bellissima presentazione sul ruolo della dietista e adesso ci addentriamo nelle applicazioni cliniche della dieta chetogenica con la professoressa Simona Bertoli dell'Università degli Studi di Milano. Prego. Grazie mille per questa bellissima presentazione Bene, grazie e grazie.